Federico Tardella, Force Seat 2021, categoria experience, crossfit, macerata E vai! Allora, dumbbell da 22,5 Rho Azzerato E cronometro, vai! Ah, che vuote è, Federico? Vuote 1 di qualifica 2021 Dai, eh! 10 secondi 3, 2, 1, vai! Non riesce a girar sudo, eh! Sì, eh! Non riesce a girar sudo, eh! Non riesce a girar sudo, eh! Non riesce a girar sudo, eh! Vi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 20, bravissimo, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ultimo, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 20. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 7, 10. 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 A 0 errore A 0 errore Vai, preparati eh Vai Ultimi 400 metri Fede Bravissimo, stai a 7 minuti e 18 Ottimo, dai 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 che si fanno i buoni Bravo, qui Ottimo, dai, dai, dai Dai che piglio Buono, bravo Dai, dai che ti andiamo Dai che piglio, non è rimasto niente, dai Buono 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 No no Bella Dai 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 Tanta Tanta Dieci metri Ah Bello Dai Fede Dai Fede 3 2 1 Giù subito, dai 3 Ti stai diverso eh 2 3 4 5 6 Dai che è finito 7 8 8 9 10 Bello 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 11 12 12 12 13 14 Bravo 15 Ti stendi bene sopra Dai 16 Bravo 7 10 8 8 È finito Non lo truppa eh 19 20 Bello Ah 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 Porca mada 19 20 Allora 19 20 Il tempo Che abbiamo superato i 400 metri La dumbbell da 22 e mezzo Federico Tardella Categoria experience Come abbiamo detto prima V2 1 Qualifica Falsiris 2021 Crossfit macerata Da qui è tutto Ciao